Ciao Nicole, grazie intanto per averci ospitato alla Fiera dell'Artigianato a Verona. Ti chiedo come è andato l'evento e dimmi tu dai. Ciao Girolamo, sono Nicole, faccio parte del team del marketing di Straudi. Abbiamo organizzato questo evento per i nostri clienti, un po' di tutti i settori, dalla fane di merita, edilizia, carpenteria e carrozzeria. Abbiamo scelto Fibrand per riuscire a trovare anche un po' di svago in questa giornata, che non deve essere per forza sempre solo lavoro. Devo dire che è stata una scelta super azzeccata perché c'era la fila, tutti l'ho apprezzato moltissimo e si sfidavano tra di loro per riuscire ad arrivare nella classifica dei primi dieci. Anche l'esperienza dall'inizio alla fine con Fibrand per me è stata meravigliosa, dalla comunicazione fino al trasporto, all'arrivo della macchina e del simulatore qui. È stato tutto perfetto. Lo consiglierei assolutamente a tutte quelle aziende che vogliono mettere qualcosina in più nel loro evento. Noi in primis sicuramente continueremo a inserire questo tipo di intrattenimento all'interno dei nostri eventi. Non potrei essere più che contenta. Ho provato a fare un giro, non ho fatto uno dei migliori tempi, però insomma sono molto 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 contenta dell'esperienza. La prossima volta sicuramente ti farò fare un tempone. Ottimo, grazie mille. Grazie Nicola, alla prossima, ciao. Ciao.